Allora, siamo in onda? I tagli sono? No, sì. Allora, operazione alta scuola, scarpatura del palettone. Andiamo a fare una incisione superficiale. Si può fare con la lametta, ma anche la forbice consente un taglio più letto. Poi, prendiamo il lembo. Per fare questo bisogna che ci sia una pelle cosiddetta abbastanza asciutta. Ok, il lembo e andiamo a incidere sotto pelle, così. Tutti e quattro. Così. Eccoci. Andiamo con la tradizionale noce, la noce di burro che rende il prodotto più fragmante. E procediamo con l'informamento. Salute. Grazie. Arrivederci alla prossima. Buongiorno.